Il 2009 ha sancito la nascita del primo esempio al mondo di comunità del cibo ad energie rinnovabili. Un gruppo di aziende che, ispirandosi al modello della comunità del cibo di Slow Food, che è partner del progetto insieme a Cosvig e alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, si sono unite insieme con in comune l'obiettivo di produrre con materie prime toscane ed energie rinnovabili. Le aziende della comunità del cibo ad energie rinnovabili sono maggiormente concentrate nelle aree geotermiche della Toscana e sfruttano il calore geotermico. Grazie a degli scambiatori di energia ottengono elettricità per alimentare le loro strutture con un notevole risparmio economico. Altre sfruttano ogni materia di scarto di lavorazione, pannelli solari e fotovoltaici per ottenere energia rinnovabile a impatto zero. Nel corso degli anni la comunità del cibo e energie rinnovabili ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui il premio Eco Air the City 2012 Giovanni Spadolini per la riqualificazione dei territori agricoli. La collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo prevede viaggi didattici periodici nelle aziende della comunità del cibo ad energie rinnovabili, dichiarate vere e proprie sedi didattiche della Teneo. La comunità del cibo e energie rinnovabili è presente a molte manifestazioni, come il Salone del Gusto 2012, e festa ambiente 2014. Da quando è nato il progetto ha ottenuto sempre più consensi. Da un nucleo iniziale di cinque aziende sono ora diventate 14. Eccole! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!